Ciao, come state? Tutto bene? Finalmente ci ritroviamo, è un piacere per me ritornare intanto negli studi della radio, ma dirvi che finalmente, nella prossima settimana, riprenderemo anche le nostre trasmissioni, palinsesso cambiato, ritorneremo anche dal dal vivo per raccontarci un po' di cose. Nel frattempo, insomma, le vacanze sono finite, ahimè, sono finite! E quindi torniamo anche a raccontarci quello che è successo durante questa estate. Sì, infatti avrò modo di raccontarvi un po', insomma, le mie vacanze in Sardegna, le vacanze a Capdug, tutto quello che, insomma, è stato un po' realizzato in questa estate bizzarro, potrei dire. Bizzarra per il caldo che c'è stato, massacrante, allucinante, e bizzarra perché non mi ricordo di aver fatto mai così tante vacanze come quest'altro. Lo so, molti di voi potranno dire, eh, non è giusto, io magari sono stata calda, non sono andata da nessuna parte, lo so, però questo mi è servito anche per, diciamo così, potervi raccontare qualcosa in più. Che dire? Invece noi torniamo qui, come sempre, avremo le nostre dirette del martedì, come sentite, ci sono, continuano a esserci i lavori, eh, praticamente qui vicino del cortile, non solo per abbellire il cortile d'epoca, eh, e quindi, insomma, anche nelle nostre dirette, mi sa che tra una chiacchierata e l'altra avremo questi rumori di sottofondo. Ma va bene, vuol dire che è tornato tutto quanto alla normalità, questo ci piace e poi naturalmente aspetto, come sempre, anche da voi, insomma, quello che avete fatto voi quest'estate, dove siete andati, magari qualche storia particolare che avete da raccontare, che, insomma, volete condividere con me e con tutti noi. Per cui, questo era solo per dirvi, yeah, sono tornata, molto presto ci ritroveremo dalla prossima settimana, naturalmente continuando anche a seguire, eh, quella che TRS Radio, il palinsesso, tutto quello che abbiamo da offrirvi di nuovo, perché ci sono veramente tantissime novità e questo mi piace perché vuol dire che, insomma, si ritorna un po' a stare insieme e a proporre qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso. Per quanto ci riguarda, sempre, 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 stesso giorno, stesso orario, non cambiamo niente, rimaniamo insieme, è sempre un martedì. Questa è la cosa che almeno su questo non cambia e che dire, eh, nel frattempo, insomma, vi auguro veramente ancora una buona settimana, una buona estate, in attesa di ritrovarci molto presto qui al martedì. Ciao! Un bacio! Ciao!